Tired e Velox garantiscono la sicurezza stradale ed anzi la loro introduzione l'ha anche migliorata. Sono i numeri quelli instati illustrati dal sindaco Masci, dal presidente della commissione sicurezza Foschi e dal comandante della polizia locale Palestini a confermarlo. In due anni sotto quei semafori sono passate 22 milioni e 700 mila macchine, un numero che nessuno credo potesse mai immaginare. Quei passaggi hanno prodotto poco più di 50 mila contravvenzioni. Se andiamo a fare la percentuale vuol dire che lo 0,24% delle macchine che sono passate sotto i Tired negli ultimi due anni sono passate in maniera tale da prendere una contravvenzione. Il 50% perché sono passate con il rosso, l'altro 50% perché hanno cambiato corsia. Questo dato che cosa ci dice? Ci dice che a Pescara il traffico in generale è un traffico che si svolge correttamente. Pescara è in controtendenza rispetto a tutte le città abruzzesi per il numero dei morti su strada. Nel 2022 per esempio non c'è stato nessun morto su strada a Pescara e questo ci deve rassicurare perché queste operazioni non si mettono in campo per fare cassa. E' la dimostrazione che sono pochissime le contravvenzioni rispetto alle macchine che passano sotto i Tired. Questo vuol dire più sicurezza, meno incidenti stradali, meno danni alle persone, meno morti, meno sofferenze e meno costi. Perché oggi a Pescara le assicurazioni costano di meno rispetto ad altre città e rispetto alla media nazionale perché è una città più sicura. Questo volevamo ottenere in due anni con le politiche di mobilità che abbiamo messo in campo e i dati ci danno ragione. Un countdown però ridurrebbe certamente l'ansia dei conducenti in transito agli incroci con Tired. Lo metteremo nel momento in cui questo sarà possibile. Purtroppo oggi non si può mettere perché non ci sono ancora i decreti attuativi del Ministero. Quando ci saranno noi saremo la prima città che metterà i countdown anche per le macchine.